Sorpreso in A1 con oltre 700 grammi di shabu, la droga dei kamikaze. È successo ieri sera attorno alle 22.30 quando la Polstrada ha fermato un'auti guidata da un cittadino cinese di 45 anni, risultato poi pluripregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti e senza fissa dimora in Italia. Questo aspetto, unito all'atteggiamento elusivo e nervoso dell'uomo, ha indotto gli agenti della sottosezione di battifolle a perquisire lui e la macchina. Sotto la mochetta del sedile posteriore sono state così trovate due buste di celofan contenenti oltre 700 grammi di shabu, una droga della famiglia delle metanfetamine molto potente. Tale sostanza, creata fine 800 nei laboratori giapponesi, è conosciuta appunto come stupefacente dei kamikaze perché si dice fosse somministrata prima di azioni suicide durante la seconda guerra mondiale, oltre ad avere un elevato valore di mercato, produce effetti 10 volte superiori alla cocaina. Il 45enne è stato quindi arrestato, l'auto di sua proprietà sequestrata per la successiva confisca.